Musica Le imprese dell'Emilia Romagna non hanno aspettato la ricostruzione delle aziende danneggiate del sisma a 5 mesi dalle scosse che hanno devastato la pianura emiliana è più che avviata. Sono tanti gli imprenditori che hanno investito nel futuro, aprendi i cantieri e anticipando le somme necessarie ma ora arrivano le risorse dello Stato che copriranno con contributi a fondo perduto fino all'80% i costi di riparazione ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili nonché degli impianti e dei macchinari delle imprese danneggiate. Sono avviate quindi le procedure per erogare i contributi destinate alla ricostruzione. Criteri e modalità sono stabiliti dall'ordinanza 57 del 12 ottobre del commissario delegato alla ricostruzione e presidente della regione Vasco Errani. Si tratta di un credito di 6 miliardi concesso alle banche dalla Cassa Depositi e Prestiti garantito e pagato dallo Stato. I fondi saranno disponibili dal 1 gennaio 2013. Primo la perizia, perizia giurata per tutti, poi il progetto di recupero o di demolizione e ricostruzione presentato in comune, poi tutta la procedura nel suo insieme dovrà essere portata all'attenzione della regione, noi abbiamo un nucleo di valutazione che verificherà progetto per progetto perché abbiamo bisogno di assicurare trasparenza in modo totale e poi ovviamente l'emissione dell'ordinanza della lettera del presidente Errani che io ho sempre definito la cambiale di riferimento per andare in banca. Con il conto aperto, pestati di avanzamento il primo 40%, la procedura dal 1 gennaio 2013 assicurerà le risorse sul conto per pagare i lavori dell'impresa. Quindi procedura snella, trasparente perché abbiamo bisogno che tutto sia regolare e tutto sia conosciuto. È una fase questa dove sono necessarie tante informazioni. La regione Emilia Romagna ha messo in campo un vademecum, un portale internet e un numero verde per fornire informazioni a tutte le imprese che vogliono ripartire e questo vademecum è basato su tre parole chiave, emergenza, ricostruzione, competitività e qui si parla chiaramente di futuro. Parole che alla Gambro Dasco, impegnata a costruire un nuovo stabilimento nell'area di Mirandola, alla Belco, alla Cavicchioli, alla Cima, alla B-Brown, alle fonderie Scacchetti e in decine e decine di altre imprese che sono già ripartite, sono la vera porta d'accesso al futuro, come alla Menù di Medolla. I danni erano ingenti perché il fabbricato non dava più le garanzie di sicurezza. Il cantiere avanza giorno per giorno, presto questa struttura che è in legno lamellare e ha nuovi, poderosi sostegni in cemento per reggere un tetto che coprirà diverse migliaia di metri quadrati, sarà pronto per tornare a lavorare. Abbiamo avuto la fortuna di essere solidi come azienda, quindi quando è successo il sisma siamo stati in grado di far fronte immediatamente alla difficoltà anche dal punto di vista economico. Io devo ringraziare tutte le persone che lavorano qui e che hanno lavorato qui perché veramente le persone che si sono sentite unite per una causa comune di ricostruzione e hanno risposto tutte perfettamente in modo eccezionale. Eccole quindi le date chiave per le imprese. Le domande per ottenere i contributi necessari alla ricostruzione potranno essere consegnate fino al 15 maggio del 2013. La conclusione dei lavori, di tutti i lavori, deve essere tassativamente prevista entro il 31 dicembre del 2015. La richiesta è stata una reazione incredibile da parte degli imprenditori. Adesso la priorità è che questi soldi siano immediatamente fruibili da parte delle nostre imprese perché la priorità assoluta è la ripartenza delle imprese. Quindi qui c'è la necessità di erogare immediatamente i finanziamenti e c'è la necessità che anche le banche facciano la loro parte. Luca Lorenzi, presidente della Commissione regionale dell'ABI Emilia Romagna, ha ribadito che una convenzione sottoscritta dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalle banche regolerà le modalità di utilizzo delle risorse, le caratteristiche dei finanziamenti erogati degli istituti di credito ai soggetti danneggiati. L'erogazione dei fondi avverrà sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori finanziati. Il mondo agricolo, le filiere agroalimentari di qualità dell'Emilia Romagna hanno subito danni pesanti dal terremoto ma le immagini delle scalere di Parmigiano Reggiano rovinate a terra saranno presto solo un ricordo. C'è una chiara demarcazione su ciò che finanzia questo bando del programma di sviluppo rurale e ciò che finanzia l'ordinanza del commissario della ricostruzione quanto le attività produttive. Il nostro bando finanzia l'acquisto e il ripristino di macchine, macchinari, attrezzature, impianti, scorte. Mentre invece l'ordinanza finanzierà gli immobili da ricostruire o ripristinare, le stalle finanzierà il recupero di valore del prodotto in stagionatura, doppi GP in particolare la perdita di valore del Parmigiano Reggiano e dell'aceto balsamico a seguito dei crolli seguiti al terremoto. Per gli imprenditori agricoli la data chiave è una sola. Le domande vanno presentate entro il 10 gennaio del 2013. Per tutti in tema di risorse il primo plafond è di oltre 6 miliardi che saranno disponibili dal 1 gennaio del 2013. Grazie a tutti.